Siamo qui ad Alghero con Fabio Seio, artista, pittore, nel suo studio, in occasione proprio di una manifestazione che inizierà questo venerdì, lo vedrà protagonista per quattro appuntamenti. Ce ne puoi parlare Fabio? Sì, sono quattro appuntamenti, erano sei, io partecipo gli ultimi quattro, da venerdì, sabato, e poi cinque sei che sempre cade su venerdì e sabato, dalle 17.30 alle 20.30. Praticamente un'associazione che si chiama Stacche, che vuole valorizzare l'arte contemporanea in Sardegna, ha deciso di fare una cosa inusuale per la Sardegna, molto bella, quella di tenere gli studi aperti. Quindi Open Studio, in modo da sensibilizzare il pubblico, la cittadinanza tutta, è un evento regionale e praticamente gli artisti devono aprire le porte a chi vorrà vedere il loro studio. È una cosa molto, a parer mio, molto anche divertente e stimolante rispetto a una mostra d'arte contemporanea, perché vedi proprio dove opera l'artista. Oltre a questo appuntamento, Fabio scusa se ti interrompiamo, ce ne saranno altri, in futuro state programmando qualcosa? Sì, in futuro diciamo un altro appuntamento, sempre in città, però per adesso voglio riservare prossimamente quale sarà questo appuntamento.